buongiorno a tutti i miei cari amici dal vostro carissimo amico giaccomitrona oggi 4 luglio 2023 buongiorno a tutti i miei cari amici iscrivetevi al mio canale giaccomitrona mettete un like al video se vi è piaciuto buongiorno a tutti dal vostro carissimo amico giaccomitrona il mellone giallo un mollone giallo iscrivetevi al mio canale giaccomitrona un mollone giallo è bel e è dolce buongiorno a tutti dal vostro carissimo amico giaccomitrona